E' approdato agli ottavi del mondiale il Brasile dopo la vittoria di ieri 2 a 0 contro la Serbia. Paolinho e Thiago Silva in gol con Neymar in crescita e Coutinho tra i migliori. Adesso la squadra di Tite se la vedrà col Messico. Dopo la decisione dell'Uefa di escludere il Milan per un anno dall'Europa League il club rosso-nero ha deciso di ricorrere al TAS. In questa situazione di incertezza emerge il pericolo di fuga di vari big da Donnarumma a Suso fino a Bonucci. L'Atalanta senza preliminari da disputare potrà completare con calma il mercato. Jankto per la mediana resta un obiettivo caldo. La Fiorentina dovrà giocare invece i preliminari e deve accelerare per i colpi in entrata. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Daremo inizialmente uno sguardo al Mondiale con il Brasile che si è qualificato agli ottavi battendo ieri la Serbia. Un saluto subito a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo e buonasera. E buonasera anche a Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo e buonasera. Brasile dunque che non ha tradito le attese come abbiamo titolato perché il Brasile è comunque andato in crescendo, almeno per quel che riguarda le prime partite. Ieri è stata abbastanza convincente, 2-0 con i gol di Paolinho e Thiago Silva, anche se qualche limite difensivo continua a mostrarlo. Sì, è un Brasile in crescita. Come giustamente ho sottolineato tu, è un Brasile che non ha entusiasmato in questa fase a Gironi e secondo me non l'ha fatto nemmeno ieri, anche se ha giocato meglio rispetto alle due precedenti apparizioni. Però per larghi tratti del match contro la Serbia sono stati Serbi a dominare. Il problema della Serbia è stato che di fatto in questa fase a Gironi è mancato completamente il centravanti. Mitrovic non c'era chi la buttava dentro, ma la Serbia dal punto di vista del gioco, secondo me, ripeto, in alcune circostanze ha fatto anche meglio del Brasile. Però è un Brasile molto solido. È vero che difensivamente qualcosa ha lasciato per strada, però ieri Thiago Silva è andato anche a segno nella vittoria del Brasile. Sono comunque giocatori di grande esperienza internazionale. Preoccupano un po' le condizioni di Marcelo perché è terzino che ha fatto benissimo nell'ultima stagione ed è una delle armi più importanti di questo Brasile. Ieri è uscito dopo qualche minuto e vedremo se riuscirà a recuperare in tempo per l'inizio della fase eliminazione diretta. Insomma, è un Brasile che può fare sicuramente di più e che però se vediamo soprattutto come è andata la Germania, come l'ha superato il giro nell'Argentina, sicuramente due o tre passi in avanti. Parlando dei singoli, Coutinho, senz'altro tra i migliori, anche Neymar sta migliorando e sembra più utile alla squadra in queste ultime partite, soprattutto nella partita di ieri, di fatto lo ha evidenziato. Partendo da Coutinho, credo che sia una delle note più positive di questo inizio di Mondiale del Brasile. Non si è caricato sulle spalle perché non è un uomo alla Cristiano Ronaldo, per intenderci come lo è CR7 per il Portogallo, però ha tolto le castagne dal fuoco in più di un'occasione e anche ieri ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma. In una competizione come il Mondiale, che dura un mese, è importante avere giocatori in questo stato di forma e Coutinho sicuramente potrà essere utile al Brasile anche nella fase eliminazione diretta. Per quel che riguarda Neymar, deve migliorare dal punto di vista del collettivo. Hai detto che si è messo più a disposizione della squadra, è ancora un po' un giocatore che pensa più che altro a se stesso. È questo che deve migliorare, ma non in questo Mondiale, ma proprio in tutto il modo di giocare di Neymar per avvicinarsi ai due, Messi e Cristiano Ronaldo, perché le qualità sicuramente sono quelle. Può sorridere comunque Tite, il commissario tecnico del Brasile, perché Neymar è un giocatore importante che è il pianto liberatorio dopo il gol fatto alla seconda partita. Nella prova si è dovuto togliere di dosso le tante pressioni. Dovrà ancora farlo, dovesse arrivare un altro gol o un'altra superprestazione già agli ottavi contro il Messico. Penso che vedremo il miglior Neymar nel proseguo del Mondiale. Non è brasiliano, ma parla portoghese Joao Cancelo, rinforzo della Juventus. da qualche ora è ufficialmente un giocatore bianconero, 40 milioni di euro, questo è il prezzo pagato dalla Juventus per acquistarlo. Vale la spesa questo giocatore? Non so se vale la spesa, stiamo parlando del terzo terzino più pagato della storia del calciomercato, dopo Walker e Mendy entrambi acquistati dal City di Guardiola. Sicuramente un ottimo terzino, è ancora relativamente giovane, perché un classe 94 ha fatto bene già in Serie A, quindi questi sono punti a suo favore. Poi la Juventus c'è da dire che storicamente non si è mai risparmiata nella spesa per i terzini, basti pensare nel 2001 i 70 miliardi per Turam, versati nelle casse del Parma, i 26 milioni di euro versati nelle casse del Porto tre anni fa per Alexandro. Insomma è una squadra, è una società che investe storicamente sui terzini. È sicuramente un titolare, cioè la Juve aggiunge un titolare al suo 11, e quindi insomma è una Juve che compete ogni anno per la vittoria della Champions, 40 milioni è una spesa, una cifra che può starci. Poi vedremo insomma se varrà davvero questa cifra, però è un buon giocatore, è un ottimo innesto per questa Juventus. Di Cancelo ha parlato in questa intervista Massimo Giletti, noto tifoso juventino. Vediamo. Il Cancelo è stato un anno all'Inter, vedo che attacca molto bene, difende un po' meno, però sicuramente è un uomo di grande talento, cioè la differenza oggi nelle grandi squadre la fanno i talenti puri. Intanto ho criticato Messi, poi è quello che fa la differenza, avere giocatori di qualità per arrivare a certi livelli è indispensabile. Io sono sempre dell'idea che prima devi prendere l'uomo, è importante avere la mente, la testa, perché poi alla fine la differenza la fa sempre il modo di porsi, il modo di ragionare, il modo di convivere in un gruppo. Noi sappiamo sempre l'esterno, vediamo sempre l'esterno. Poi all'interno di 20 ragazzi c'è sempre una certa situazione, quindi gestire un gruppo importante non è semplice. Cancelo ha fatto benissimo all'Inter, alla Juve devi sempre vincere. Per quello che ha visto fino a questo momento, mi riferisco al mercato, chi è che si sta avvicinando di più alla Juventus? Come sempre il mercato fa il campione, chi è il campione d'estate spesso poi non lo è in inverno, è di primavera. L'Inter però ha scelto un giocatore che in Italia fa la differenza che si chiama Naigolan e quindi, e non solo, ha fatto gli acquisti mirati, però come sempre, io credo che la realtà è un'altra, è la realtà del campo. Inter che per quel che riguarda Naigolan oggi ha presentato il giocatore, Naigolan si è detto carico entusiasta della sua scelta, vuole vincere tutto, sono chiaramente frasi che spesso ascoltiamo durante le presentazioni dei giocatori, però di fatto l'Inter ha davvero compiuto fino a questo momento una campagna acquisti di assoluto spessore. Ride meno invece il Milan che è stato fatto fuori dall'Europa League da parte dell'UEFA, c'è ancora la possibilità comunque di ribaltare questa sentenza ricorrendo al TAS e di fatto il Milan ha in mente e lo farà il ricorso al TAS. Certo è che in questo momento il Milan sta anche riflettendo su quella che è stata effettivamente la decisione dell'UEFA perché si fa riferimento ad un mancato pareggio di bilancio nel periodo dal 2014 al 2017, uno sforamento di 120 milioni e guardando al passato ci sono stati dei trattamenti diversi rispetto ad altri club in particolare per il Paris Saint Germain. Sì, il caso del Paris Saint Germain è un po' quello che prendono tutti ad esempio perché comunque il Paris Saint Germain spende tantissimo l'anno scorso 400 milioni di euro per comprare due giocatori però non bisogna guardare chi fa peggio secondo me in casa Milan le regole ci sono e vanno rispettate, il Milan non le ha rispettate ci potevamo aspettare anche una sentenza più dura quindi secondo me il Milan può anche sorridere in un certo senso perché si parlava di due anni, si parlava di multa in realtà è arrivato soltanto un anno con sentenza che può essere ribaltata come ha detto Lorenzo giustamente dal TAS di Lausanna e non è arrivato alcun tipo di multa quindi è un Milan che proverà sicuramente a rovesciare la sentenza della UEFA al TAS di Lausanna però c'è un gran caos, è veramente un gran caos quello che c'è relativo a questo caso che chiaramente riguarda anche l'Atalanta che dovrebbe tra virgolette essere ammessa la fase a Gironi però se il TAS di Lausanna dovesse ribaltare la sentenza dovrebbe scendere in campo il 26 di luglio e manca pochissimo la Fiorentina allo stesso modo potrebbe non essere in Coppa in questo momento è ai preliminari di Europa League ha anticipato addirittura il raduno però se poi il TAS di Lausanna ribalta la sentenza non dovrà partecipare all'Europa in tutto questo c'è un gran caos fatto dalla UEFA nel comunicato di ieri e nei tempi perché adesso il Milan avrà tempo fino al 7 di luglio per presentare il ricorso al TAS di Lausanna poi ci sarà l'udienza poi ci sarà la nuova sentenza e intanto però i tempi stringono perché come abbiamo detto il 26 di luglio sarà il primo giorno che vedrà in campo una italiana o Fiorentina o Atalanta i preliminari d'Europa League difficile fare previsioni in questo momento certo è che se dovesse arrivare per il Milan un nuovo azionista di maggioranza il quadro potrebbe cambiare ma non credo per il TAS onestamente perché il TAS si affida alle carte che è già giudicato l'UEFA cioè il TAS non può aggiungere nuovi elementi nel momento in cui va a giudicare nel momento in cui il Milan presenterà ricorso quindi si andranno ad analizzare le stesse carte che il Milan ha presentato nelle ultime udienze a Neon è chiaro che poi insomma venendo a sapere anche di un Milan che cambia proprietà di un Milan che nel futuro avrà comunque basi più solide rispetto a quelle attuali non so se questo potrà avere un peso poi nell'opinione dei giudici ricordiamolo uno verrà messo lì dal Milan un altro dall'UEFA un altro sarà indipendente saranno questi tre giudici che poi al TAS di fatto confermeranno o non confermeranno quello che è stata la sentenza dell'UEFA quindi sulla carta no restando a quello che dovrà accadere il cambio di proprietà non dovrebbe di fatto modificare quella che sarà poi la risposta definitiva del TAS certo i tifosi del Milan se lo augurano un cambio di proprietà perché insomma Yongonglia ad oggi è vero ha emesso tanti soldi però non ha portato certezza in questo progetto un anno dopo i 240 milioni di euro spesi per il mercato siamo qui a parlare di Alilovic con tutto il rispetto ma uno scarto dell'Amburgo che è il retrocesso in Zweite Bundesliga nell'ultima stagione che ha giocato nell'Aspalmas in prestito e quindi un Milan che vuole e deve cambiare proprietà se vuole rilanciare le sue ambizioni sul Milan sentiamo adesso anche le considerazioni di Guido Magherini ex giocatore rossonero presumo che siano cose gravissime perché per escludere il Milan bisogna siano delle cose bruttissime e gravissime io credo che che per il Milan sia una grande botta una bellissima botta a livello di immagine non si sa come come stanno le cose le cose sicuramente sono grosse e brutte pertanto trovare un acquirente non è facile ora ho visto anche che l'americano si è fatto indietro ora non lo so anche questa incertezza questa mancanza di solidità ha influito sulla decisione del UEFA probabilmente è di sicuro si hanno preso una decisione del genere contro il Milan una delle società più quotate più vincenti al mondo vuol dire che ci sono delle cose brutte la Fiorentina entra a questo punto in Europa League deve affrontare i preliminari è chiaro che ci deve essere a questo punto anche un'accelerazione per quel che riguarda il mercato sicuramente è una decisione del genere così magari se l'aspettava la Fiorentina però dovrà servire per fare una squadra decente cioè decente nel senso per l'Europa non per quello che ha fatto fino ad ora perché la squadra ha sempre fatto dei campionati buoni per quello che la società metteva a disposizione della parte tecnica io credo che poi Pantaleo riuscirà sempre a riaddrizzare la situazione poi riprenderemo il discorso sulla Fiorentina però restiamo per un attimo ancora sul Milan ne parlavate anche nell'edizione di ieri del TMV News del pericolo di fuga di alcuni big rossoneri da Suso a Donnarumma fino a Bonucci perché comunque anche per Bonucci potrebbe tornare il Manchester United a premere è chiaro che questi giocatori qualche riflessione in questo momento la faranno eh sì per forza perché comunque il palcoscenico europeo è molto importante la fortuna tra virgolette del Milan è che il mondiale è quest'anno e l'europeo sarà fra due anni perché sappiamo quanto i giocatori tengano alla maglia della nazionale quindi nell'anno dispari dove non ci sarà niente magari trascorrere una stagione senza coppe europee potrebbe essere meno grave rispetto a una stagione che porterebbe a un mondiale o a un europeo detto questo è chiaro che se dovessero arrivare offerte sia i giocatori ma anche il Milan dovranno riflettere citavi Bonucci giustamente se il Manchester United come spingono dall'Inghilterra dovesse davvero arrivare a offrire 40 milioni di euro che sono i soldi che il Milan ha pagato un anno fa alla Juventus per avere il giocatore visti i problemi finanziari e societari dei rossoneri è chiaro che un pensierino il Milan dovrebbe farcelo sarebbe un passo indietro questo sicuramente perché il Milan aveva preso Bonucci come colpo scudetto un anno fa affidandogli subito la faccia da capitano esatto un anno fa di questi tempi parlavamo di Milan da scudetto proprio per l'arrivo di Bonucci però può succedere di tutto Donnarumma è un altro giocatore che potrebbe partire Suso e Donnarumma sono i due giocatori con i quali il Milan potrebbe fare le plusvalenze quindi chiaramente sono al centro del mercato Sui big e il loro pericolo di fuga sentiamo anche il parere di Alessandra Gozzini che è intervenuta a RMC Sport Sì, allora è ancora molto fresca e penso che nel frattempo in queste ore nessuno degli agenti si sia presentato alla porta di Vialdo Rossi di casa Milan per chiedere già l'accessione di un proprio assistito è evidente che il TAS potrà ribaltare anche questi umori gli umori dei giocatori che in questo momento evidentemente non saranno tendenti all'ottimismo qualora anche il TAS sconfermasse questa sentenza sì, sarebbe difficile trattenere alcuni dei protagonisti è chiaro che esibirsi in un palcoscenico internazionale ed esibirsi anche se è l'Europa League ed esibirsi solo in Italia è differente quindi io penso a un Bonucci a un Suso allo stesso Donnarumma che difficilmente a quel punto il Milan potrebbe trattenere naturalmente hanno fatte tutte le specifiche del caso Bonucci è il capitano Suso ha una clausola recissoria su Donnarumma probabilmente c'è anche l'intenzione del Milan di cederlo però sono nomi di giocatori che immagino scontenti di una situazione del genere poi da vedere insomma questo dunque era il parere di Alessandra Gozzini della Gazzetta dello Sport adesso parliamo anche dell'Atalanta perché è chiaro che anche i bergamaschi sono coinvolti da questa decisione dell'UEFA di escludere dall'Europa League il Milan e l'Atalanta stando così le cose si troverebbe a dover affrontare l'Europa League senza passare dai preliminari avrebbe quindi la possibilità di svolgere il ritiro estivo in tutta tranquillità e di portare avanti il mercato con calma senza dover farsi prendere da nessun tipo di assillo sì è chiaro che però resta un grosso punto interrogativo ad oggi l'Atalanta in questo momento è qualificata alla fase a Gironia come dicevi tu una squadra che si deve costruire ma con calma perché le sessioni più importanti le aveva già definite in precedenza con Spinazzola e Caldara e Cristante l'ha venduto in fretta e anche a un buon prezzo alla Roma in questa finestra di calcio mercato e quindi non dovrebbe uscire più nessuno sono arrivati lo ricordiamo il difensore Reca e Tuminello esatto Tuminello è arrivato per l'attacco e facciamo attenzione perché io credo che sia il miglior classe 98 sia all'altezza di Patrick Cutrone questo giocatore con Gasperini potrà fare benissimo sono convinto che potrà essere stato sfortunato fino a questo momento è stato bloccato da un infortunio grave al ginocchio infortunio al crociato nella passata stagione ha comunque realizzato tre gol col Crotone però è un attaccante da Serie A l'Atalanta può fare benissimo c'è Barrow e l'abbiamo visto nella passata stagione quindi credo che saranno loro i titolari anche se poi in Rosa ci sono ancora Petagna e Cornelius però è una squadra questa che va rinforzata Gomez resterà nonostante le offerte c'è la Lazio che lo vorrebbe sostituire aspettiamoci qualcosa soprattutto a centro campo perché è una squadra che va rinforzata il problema è uno il Milan adesso ha deciso di presentare il ricorso al TAS lo presenterà probabilmente entro una decina di giorni poi a quel punto il TAS dovrà decidere quindi se il TAS tra 15-20 giorni ribalta la sentenza l'Atalanta verrebbe a sapere di dover disputare il preliminare circa una settimana prima della data che sarà il 26 luglio stesso discorso per la Fiorentina che a questo punto inizierà a preparare il preliminare di Europa League che andrà in scena gara d'andata il 26 luglio ma magari il 20-21 luglio viene a sapere che non deve disputare più quella gara e questo il motivo per cui continuiamo a ripetere che la UEFA ha costruito un grandissimo caos ed è il motivo anche per il quale mi aspetto insomma un TAS che vada avanti sulla linea della UEFA cioè di un TAS che non ribalti quello che la UEFA ha sentenziato nella giornata di ieri in 30 secondi parlando della Fiorentina indipendentemente dai preliminari di Europa League che debbano o meno essere giocati della Fiorentina serve comunque un'accelerazione sul mercato sì è un mercato in ritardo quello di Pantaleo Corvino e della Fiorentina perché è partito Milan-Badel scadenza di contratto per il Croato e ancora il sostituto non c'è e sostituire Badel non è assolutamente semplice per Pioli sarebbe importante avere a disposizione il giocatore il prima possibile ritiro vero e proprio della Fiorentina inizierà il 7 luglio a Moena si ritroverà il 2 luglio la squadra però è chiaro che per inserire un giocatore che debba essere il fulcro del centrocampo sarebbe ottimo per Pioli averlo già a partire dall'inizio del ritiro e poi c'è il portiere perché se n'è andato anche Sportiello è tornato all'Atalanta la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo però si sono fatti vari nomi Meret probabilmente era quello in cima alla lista di Pantaleo Corvino voleva troppo l'Udinese e quindi ha dovuto ripiegare si parla adesso di Gabriel c'è chi dice che però potrebbe fare il vice ma il vice di chi insomma ci sono tanti problemi in casa tanti punti interrogativi e poi c'è anche l'esterno d'attacco Marco Piasa è sempre il preferito numero uno Corvino lo voleva già a Bologna però fino alla fine del mondiale e la Croazia da quello che abbiamo visto potrebbe andare veramente avanti per tanto non sappiamo ancora se potrà arrivare e la decisione verrà presa successivamente all'eliminazione della Croazia adesso Pino Vitale direttore sportivo le sue valutazioni le sue considerazioni sulla Fiorentina e sull'Europa League mi sembra giusto che lo faccio alla Fiorentina nel calcio bisogna essere serio chi paga e deve avere dei vantaggi c'è po' da fare se il Milan ha fatto delle cose che non si potevano fare è giusto che paghi è giusto che lo faccio alla Fiorentina che sicuramente sapeva già questo diciamo ci sarà sicuramente anche ci avrà già anche pensato sono sicuro che la Fiorentina secondo me andrà a prendere per tre o quattro giocatori più importanti diciamo delle scommesse che via via fanno perché avendo un giocatore importante come Chiesa e anche il centroavanti il Ciolo che sono giocatori forti anche lo stopper che ha fatto il capitano l'argentino secondo me è un giocatore importantissimo anche saponato anche se leggo che lo vogliano vendere se su questo ci si mette quattro giocatori diciamo e facendo le coppe europee vengano anche più volentieri e poi si può fare anche qualche scommessa come l'anno scorso è andata bene la mezzala francese però non è che si possa fare tante scommesse dieci dodici come tutti gli anni facciamo meno scommesse e andiamo a prendere qualche certezza che lo merita Firenze lo merita i tifosi e lo merita anche la Coppa UEFA ecco l'ultima domanda sempre sull'Europa League quanto cambia per la Fiorentina a partecipare a questa competizione soprattutto doverla preparare così in fretta ci sono dei preliminari che magari sulla carta possono essere semplici però vanno comunque giocati no no non è mai semplice perché partire molto prima per fare la Coppa UEFA di rincorsa anche se è stata vinta una volta di rincorsa insomma sballa un po' i piani però la Fiorentina ormai sicuramente se lo sapeva di poter fare questo hanno fatto l'allenatore avrà preparato sicuramente una preparazione adatta per iniziare prima iniziare prima vuol dire tirare un po' il collo ai giocatori colorita questa espressione ma che rende molto bene l'idea siamo ai saluti grazie Lorenzo Di Benedetto grazie a te e grazie a Raimondo De Magistris grazie a te Lorenzo grazie a tutti voi per averci seguito buona serata grazie a tutti